Allora, il mio personaggio si chiama Mattia, è uno dei quattro fratelli, il secondo, è un artista probabilmente diciamo dei quattro fratelli è quello che almeno fino a metà del film è quello diciamo meno evidentemente danneggiato, è quello apparentemente più risolto e diciamo essendo quello un po' più luminoso all'inizio è anche quello che si fracassa in modo più plateale a metà, non voglio spoilerare ma insomma ed è una cosa bellissima almeno per me da attore quella di raccontare personaggi che si spezzano in due, cioè proprio lui nella prima metà del film ha un colore nella seconda è come se avesse visto la morte in faccia per cui tutto cambia il metronomo del personaggio, cambia il ritmo, cambiano le palpebre, le parole ed è una cosa bellissima